All'ultimo respiro per il rotto della cuffia, ma la qualificazione ai pre-off ha rincuorato non poco la scandone. L'ottavo posto ha consigliato ai Biancoverdi l'incrocio ai quarti con la Corazzata Milano, al meglio delle cinque gare. Già stabilito il programma della serie, prime due sfide in trasferta per i Biancoverdi che inaugureranno la post-season sabato alle 19 al Forum. Si replicherà due giorni dopo, questa volta alle 20.30, prima che il duello si trasferisca al Del Mauro, mercoledì 22, sempre alle 20.30. Queste le sfide certe per la Sidigas, che proverà ad evitare lo sweep della favorita Armani. Per farlo, Sikes e compagni dovranno mettere sul parcheggio un'intensità e una voglia diversa rispetto a quanto visto negli ultimi mesi. La Sidigas è sempre stata una squadra umorale, incostante anche all'interno della stessa partita, e proprio questa caratteristica potrebbe esaltare i Biancoverdi. Il pass staccato per la post-season, la sfida ai grandi favoriti in non aver niente da perdere e la capacità di poter sorprendere, potrebbero tutti diventare fattori in grado di far scattare la scintilla. Difficile, quasi impossibile, ma l'aver riacciuffato per i capelli playoff potrebbe ridonare alla scandone quella linfa sparita da ormai troppi mesi. Inizia un nuovo capitolo per la Sidigas, l'augurio è che possa raccontare una storia diversa.